Allora, no no, no perché sinceramente potrei fare pure io la comunità, sii perché noi siamo il popolo, ma non fa nessuno il comunità, ma non fa nessuno il comunità, no 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 Io non mi ne ho a tirarsolo senza lavoro, assessore, ha capito che io sono senza i comuni, no io non me lo sto a prendere, forse ha capito male, io non me lo sto a prenderlo No, 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 io lo so che non ce l'ha con me, il problema è essere concreti, il problema è essere concreti, perché io non sono venuta qua, né perché qualcuno mi battesse le mani, né solo per i denti, grazie, mandano un regalo per il contatto, dico auguri, grazie, grazie, non c'è niente. Assessore, come regione avete fallito, la regione Calabria ha fallito, il Presidente ha fallito, non è stato in grado, 5 mila, chi ci rappresenta la Calabria è il governatore che ci deve rappresentare a noi che l'ha presi, io non parlo di lei, io non parlo di lei, la regione Calabria è l'unica aggiunta negli ultimi 22 anni dell'epoca che avendo avuto tre carini, ha avuto avere un contratto a tempo determinato, il contentino per sei mesi, non mi canci il piacere,m'ha verrei piacerempi, era meglio forse a questo tempo indeterminato, l'ho determinato, che mi colgati al fatto è ilений determinato, era meglio, che mi colgiati, che ha messo un intervento alla mia interventura, puoi all'estero scenes, e trasmettere alla nostra, ma cerchiamo di essere concreti.